Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji. È un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo a Ouì, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninetuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.